la storia è scritta dai vincitori la storia è piena di bugiardi se lui vivrà e noi no la sua verità diventa la storia e la nostra si perderà shepard sarà un eroe perché quello che serve per cambiare il mondo è solo una bella bugia e un fiume di sangue sta per portare a termine il miglior colpo che un bugiardo abbia mai tentato la sua verità sarà la verità ma solo se vivrà e noi moriremo giusto dietro l'acqua forza so sali sul motoscapo so cosa stai facendo massima potenza andiamo no 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 In quella grotta! Sta a lontarlo dagli spazi aperti! Evita l'elicottero sotto! Abbiamo un elicottero alle nostre spalle! Manovre illusive! Sinistra! Anvora a lontarlo dall'elicottero! Vai! Vai! A sinistra! A sinistra! Rapide davanti a noi! Ci sarà movimento! Tieni di forte! Avatar 1, rapporto sulla situazione! Passo! War Horse 5-1 operativo! Spave 9 sul fiume, signore! Ricevuto! War Horse 5-1, fate attenzione! Stiamo arrivando! Ricevuto! A tutto l'equipaggio! Odicare a moto! Andiamo! Tienino fermo! All'equipaggio! Pensa di sabbia! Stabilizza! Speriamo per la lotta più lunga! Tenetevi! Stabilizza! Indietro! Indietro! Non deve sfuggirci! W kleineie! Indietro! Wilder! Gost Renaissance! Sì. Sì. Cinque anni fa, ho perso trentamila uomini in un istante e... ...e il mondo è rimasto a guardare. Domani... ...i volontari non mancheranno. E neppure i patrioti. So che puoi capire. Sì. 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 Autore dei sovrapposti